Un'idea di un nostro compaesano, che non faccio nome, che ha detto sì, facciamolo. L'altra Guglionesi ha sposato il progetto, la Proloco Colleniso altrettanto, che ringraziamo di cuore, grazie anche al contributo ovviamente da parte dell'amministrazione comunale di questo paese, eccoci qua con quest'albero. Vorrei che faceste un applauso a tutti coloro che si sono impegnati per quest'opera. And the vision that is landed in my brain, still with me. Turned my color to the cold and dead, when my eyes were still by the flesh of a neon light. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti